Sì, penso che tornerà a Luzi, penso che tornerà a Charlie, sperano che non succeda niente da quel lunedì, ma non vedo perché dovrebbe succedere. E comunque insomma, naturalmente... Cioè se Morganella non ce la fa? Non è che magari sposta... No, anche io. Direzione adesso. Tu non giochi da esterno, no? No, l'ho fatto un anno, ma non ero più giovane. Non risulto neanche? No, no. Non c'è Mavillo, che è carico come una monna. Anche lui, insomma, più o meno, quello che viene chiesto a lui è più o meno quello che viene chiesto a me. Ha un entusiasmo interiore per lui, da trascinatore, quindi è sempre pronto anche lui. Grazie. Grazie.